Ciao a tutti, questa è la video recensione degli auricolari bluetooth 4.1 senza fili della JoyGo speditemi dalla JoyGo che arriva in questo scatolino e non so perché è arrivata con questa cosa qui appiccicata all'interno troviamo un mini manuale di istruzioni in inglese, sì un cavetto minuscolo per la ricarica dei tappi di ricambio di varie misure sono le small, le medium e le large quattro gommine per posizionarle nelle orecchie più due che sono già inserite e questo oggettino che è un fermacavo praticamente che va inserito qui e qui così per non perdere le cuffie allora, recuperiamo il tappetto ce li siamo persi queste sono le cuffie della JoyGo devo dire che sono molto belle visivamente colore assolutamente estivo assolutamente sportivo sono anche molto morbide soprattutto le gommine, queste qui, le cordine sono morbide e gli auricolari calzano bene, devo dire le ho provate, ho provato con tutti e quanti mi sono trovata bene con le medium comodissime queste, questi poggiorecchi qui perché le possiamo posizionare praticamente dentro l'orecchio nel modo che più ci sta meglio diciamo, ecco su questo lato dell'auricolare abbiamo questo pulsante che è quello di accensione questi due pulsanti che sono il volume più e meno e da quest'altra parte abbiamo invece il tappo per la ricarica ok, così bene, devo dire che gli auricolari si sono connessi subito al mio telefono l'ho provato sia su un Samsung S3 che su un Huawei P9 Lite che è quello da cui sto registrando e si sono connessi subito per accenderle vi basta premere questo pulsante qui e la luce inizierà a lampeggiare ho fatto un lampeggino veloce veloce ok aspettate che metto lo zoom ok, si è spento lo ripremiamo, vedete, si accende e se lo ripremiamo ancora si spegne diventa rosso inoltre ogni volta che lo accendete e lo spegnete dalle cuffie sentirete power on, power off quando si connette al bluetooth sentirete connected devo dire che lo usate non ha perso il segnale loro dicono che sta con carica diciamo totale dalle circa 4,5 ore in comunicazione oppure 175 ore stand by quindi senza fare niente sta praticamente due giorni, tre giorni così invece se voi ci parlate o se ascoltate la musica starà 4 ore più o meno e si, devo dire che è combacia il tempo che l'ho tenuto io più o meno acceso sarà stato più o meno 6 ore ho fatto due telefonate abbastanza lunghe abbastanza, molto lunghe è stato 6 ore acceso, si ci ho ascoltato la musica quindi come diciamo batteria la durata è buona il prezzo assolutamente è irrisorio perché al momento stanno a 13 euro ma perché c'è lo sconto del 38% ma anche senza sconto voglio dire 21 euro un paludio auricolari bluetooth non sempre li trovate almeno non così belli io ne ho provati parecchi e questi sono uno dei un paio di quelli che mi piacciono di più e che porto con me in borsa l'audio è perfetto sia in entrata che in uscita l'unica cosa con questi auricolari diciamo è che quando li metti non senti più niente cioè se li metti tutte e due entri in una bolla tua personale in cui qualsiasi cosa se venga fuori dall'esterno tu non lo senti quasi e devo dire che la cosa è un po' scomoda perché se si indossano entrambe magari stai parlando con qualcuno non lo senti devi per forza togliere un auricolare ovviamente è una cosa buona da una parte e non buona da un'altra parte comunque un bellissimo prodotto assolutamente secondo me da 5 stelle e spero che la recensione vi sia stata utile per capire cosa vi arriva a casa e vi ringrazio della visione ciao a tutti 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 ciao a tutti